Di Bara è il grande nome, ieri Zagnolo entra e segna con la fascia al braccio, segnali di apertura, segnali di permanenza, chissà. Adesso siamo qui per parlarne, per parlare di una Roma con Di Bara, ma anche con e senza Zagnolo. Quindi sarà un video comunque con la lavagna che vedete qui dietro. Mi raccomando però, prima di partire con l'analisi più tecnico-tattica, iscrivetevi, lasciate un botto di mi piace qua sotto. Scrivete anche quale modulo, quale schema, quale impostazione tattica preferite e scaricate pure OneFootball, migliore app calcistica. Vi lascio il link qui sotto in bio per seguire sempre il mondo del calcio Roma o anche Extra Roma, retroscena. Trattativa di Di Bara seguita sempre in tempo reale con ogni novità scritta comunque al volo e in maniera però completa. Vi lascio, vi ripeto, il link, scaricatela in maniera gratuita con soltanto due click. Adesso partiamo! Eccoci qua, le classiche due Rome. 4-2-3-1 modulo, lo sapete, preferito teoricamente di Murigno. E 3-4-1-2, la Roma con Di Bara. Allora, premetto premessa, secondo me fondamentale. Io preferisco questo modulo, ma, ma, ed è un ma importantissimo, se arriva Di Bara e rimane come potrebbe anche essere Zagnolo, io credo che comunque ci sia quasi l'obbligo di farli convivere tutte e quattro, Di Bara, Pellegrini, Zagnolo e Abram. Di conseguenza, secondo me, l'unico modulo possibile sarebbe questo, anche se, ovviamente, ora ne parliamo, mi pare un po' sbilanciato, però comunque, con calma. Allora, la porta, lo sapete, ovviamente, confermatissimo. Rui, Svilar, ci può anche stare come riserva, ma Rui non si tocca. Difesa a quattro, abbastanza classica. Comunque, Spinazzola, Smalling, Mancini e Karlsdorp. Quindi qui, se si gioca a quattro, non vanno fatti i movimenti in difesa. A centrocampo ho messo Matic, affiancato da un bel punto interrogativo. Perché? Perché al momento non c'è uno titolare che, secondo me, possa affiancare Matic. Il profilo perfetto per questo modulo, perché l'ha fatto a fianco a uno che, comunque, come Maxim Lopez, che sapesse giocare coi piedi, è Frattesi. Frattesi ha fatto benissimo quest'anno in questo ruolo qui, e quindi, comunque, sarebbe buono averlo. Ma il problema è che si sta aspettando troppo. Carnevali non molla un centesimo. Quindi, di conseguenza, non lo so, non me la sento di mettere Frattesi, perché, appunto, non c'è al momento una svolta nell'affare. Anche se, secondo me, lì sarebbe perfetto. Aguar è verso il Betis. Torreira o rimane a Londra, o Val Valencia, a quanto pare. Quindi, Frattesi rimarrebbe l'unico. O lui, o Saul Niggerts, o Vijnaldum. Però sono profili un po', diciamo, differenti da Frattesi. E, secondo me, Frattesi, nonostante i nomi siano, diciamo, più importanti gli altri, a me Frattesi in quel ruolo piacerebbe molto. Passiamo alla parte, però, cruciale del campo. La tre quarti. Sulla tre quarti, lo vedete, io ho messo Pellegrini al centro, e non ci piove. Zagnolo a destra, e ci sta. E Dybala a sinistra. E adesso, sì, certo che lo so che Dybala è più una seconda punta, o più al limite anche un tre quartista. Perché Allegri lo mise in un anno, 2017, lo mise qua, in questo ruolo. Con qui Quadrado, qui Mandzukic e qui Guain. E Dybala overperformò, fece veramente benissimo. Però, secondo me, comunque, qua, Pellegrini è imprescindibile. Pellegrini sulla fascia non si può mettere, anche se poi con Mancini, con l'Italia, a giugno l'ha fatto l'esterno d'attacco. Ma non lo è, quindi, secondo me, questo, per farli convivere sarebbe, diciamo, l'unico modo possibile. Qualcuno ha parlato di abbassare Pellegrini in mediana, liberando quindi la tre quarti, o comunque, ora ne parliamo anche qui, però, di abbassare Pellegrini. Ma, 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 secondo me è un no. Pellegrini, comunque, è una delle poche certezze al momento, e il ruolo suo è quello. Poi, comunque, lì non ci piove al massimo, secondo me, al massimo, 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 ma tenendoci larghi. Pellegrini potrebbe essere abbassato, sì, ma a fare la mezzala, o a fare, eventualmente, il terzo interno di centrocampo, in un centrocampo che, appunto, dovrebbe avere tre centrali. Qui ce ne stanno due. Qui ce ne stanno due, quindi, per me, è un secco no. Però, comunque, qui Di Bala potrebbe, non farebbe l'esterno, diciamo, fisso, non farebbe quello che fa Zagnolo. Sarebbe un esterno atipico, che magari gira intorno ad Abram, che magari in fase, non lo so, di possesso, si inserisce, diventa quasi un 4-2-2-1. Ora, ovviamente, i moduli, non è che siamo su FIFA, non è che siano fissi, poi, durante la gara, ci si scambia. Quindi, comunque, secondo me, Di Bala, in quel ruolo, non è il ruolo suo, e lo so, ma potrebbe essere un ruolo atipico, quasi una nuova, diciamo, quasi un inedito, un esterno mobile che si muove molto intorno ad Abram. Quasi un sostegno, comunque, all'inglese. Secondo me, potrebbe anche starci come ipotesi. Di qui, invece, comunque, vediamo, Ruim porta sempre difesa 3, i Bagnars, Smalling e Mancini. Ma, ovviamente, qui servirebbe un altro centrale, se si gioca così, e mi pare abbastanza ovvio, almeno secondo me, eh, perché rimanere con 4 centrali contati, loro 3, più Cumbulla, per un anno, se si gioca 3, mi pare veramente un suicidio assistito. Quindi, non mi sembra il caso. Senesi potrebbe essere un nome importante, in questo senso. Comunque, servirebbe sicuramente un altro giocatore in questa zona. Al centrocampo, gli esterni, Spinazzola e Karasdorp, occhi per loro, Celic e Zareschi. Al centrocampo centrale, sempre Matic, qua a fianco, va benissimo anche Frattesi. Pure se altri profili potrebbero essere, comunque, attentamente valutati. Anche qui serve uno che, comunque, sappia fare legna, che sia un mastino, un motorino a centrocampo, ma Frattesi, secondo me, andrebbe bene. Ma, qua è differente. Perché è differente? Perché questo modulo, e qui c'è la differenza più importante, è un modulo senza zagnolo. Quindi, in cui tu escludi uno dei tre. E, ovviamente, se fai così, è molto, molto più facile. Qui, questo è il modulo, diciamo, se arriva Di Bala e rimane zagnolo. Questo è il modulo, se arriva Di Bala e Zagnolo va via. In questo caso, sarebbe tutto, diciamo, tatticamente più facile, più intuitivo. Pellegrini trequartista, e poi Di Bala, o a fianco a Pellegrini, trasformando il modulo in un 3-4-2-1, oppure a fianco a Abramo, come seconda punta. Questo modulo a me piace moltissimo. E questa Roma, con un buon centrocampista, sarebbe una grande Roma. Però, certo, ovviamente, sacrificheresti Zagnolo, che però, se venduto alle giuste cifre, ti permetterebbe tranquillamente di reinvestire i soldi su un ottimo centrocampista e anche su un centrale, comunque, di un certo livello. Ora, la scelta è ovviamente ardua. Vi ripeto, se dai via Zagnolo è facile. È un modulo abbastanza scontato, comunque, Di Bala. Va a ricoprire quella parte di campo, va a giocare lì. Se rimane Zagnolo è più complicato metterli insieme, però credo che se Zagnolo rimane debbano giocare tutte e quattro titolari, perché Pellegrini è il capitano e non si tocca. Non puoi mettere in panchina il capitano. Ci mancherebbe. Di Bala è il tuo player che arriva. Ovviamente gli devi garantire, quanto o meno per convincerlo, di essere stratitolare. Altrimenti va all'Inter, se deve essere comunque in lotta con gli altri. Zagnolo, se rimane, e quindi, credo, rinnovi, ovviamente anche a lui devi garantire, avendo pure un ingaggio importante, un posto da giocatore importante nella Roma, e Abram è il centramanti per eccellenza, non si tocca. Quindi credo che comunque, se arriva Di Bala e rimane Zagnolo, debbano giocare tutte e quattro. E questo, secondo me, è l'unico modulo, un minimo possibile. Pure se farli convivere, mantenendo un certo equilibrio, sarebbe veramente un miracolo. Forse uno dei più grandi miracoli tattici della storia di Murigno, e non sto scherzando. Comunque, a me piacciono entrambi le Rome, però, se parte Zagnolo, secondo me questa Roma è tanta roba, anche perché comunque, avendo quei soldi, potresti fare un ottimo mercato. Adesso però tocca a voi, mi raccomando, scrivete qui sotto anche, tanto è cascato tutto, porca miseria, ma, mi raccomando, scrivete anche il vostro parere qui sotto, lasciate un sacco di like, veramente tantissimi, e scaricate pure OneFootball. Ciao, ci vediamo alla prossima, e sempre Forza Roma. Daie!